Sempre 24 novembre 2023, appena entrati nel bosco, ecco la macchina, mi si parla davanti questo bestione, vuol dire che devo ripetere le cotolette, dai! E ci sono anche i galletti, stamattina tra l'altro ho anche piccoli in uscita, stamattina, non ci credo, in diretta, in diretta, ragazzi non avevo visto questo mi giuro, stavo per andare, stavo per andare a trovare questo bestione, guarda un po' qua, guardate che anello che aveva, stavolta lo taglio solo al cappello, guarda qui, ma che bestione sono! Fantastico ragazzi, questo lo dico al gruppo e al mio caro amico Ulisse, con cui stavo parlando un secondo fa, 24 novembre 2023.